inizia te inizia te inizia te inizia te vai va bene iniziate voi ok iniziano loro non inizia per nessuno bella a tutti i ragazzi ciao 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 i problemi non piace un cazzo manca me ce n'è pure c'è uno rosa c'è il creeper frocio comunque io lo vedevo ma te è verde ok comunque sto solo a giocare line ciao a troppo una piuma la mia spada io ho troppato una spada ciao cicciolina come stai io faccio proprio il pane comunque raga abbiamo constatato che la ic2 non ci conviene un cazzo perché hanno tipo ma che cazzo perché ho fatto il pane non lo so in sostanza la ic2 normale non ce l'abbiamo più perché abbiamo messo quella con i better win me la nostra gente insomma con i win mil migliori e quindi per crattare quella roba serve l'anima de cristo sì in poche parole sì e quindi passiamo alla thermal expansion e ha un po di build craft si facciamo le cose più veloci scattanti fate meglio oddio però ovviamente la roba che abbiamo fatto le ic2 non è che c'era che non ci fermiamo qua e se e quando ce la facciamo un piano certo che un gizal bono che lo potresti vedere un po e strunza ma guarda che non ho troppi un gizal bono così e lo devi grattare noi lo velino sì a voglia ti faccio di come guarda scommetti allora o aiutami vien qua con la spada arriva fottuta guarda che è more poppea eh more poppea no dai 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 sì sì il primo creeper in tutta la serie con la more more match di annetti schifo un culo che riesco a giro allora il mio bello di brando sta arrivando e mi ha dato uh guarda quanti cazzo di primo c'ho eh io 14 madonna allora tieni eh ti faccio vedere se non troviamo il nome ti sto dicendo che li possiamo far accoppiare anche adesso no ma che sempre colgo non ti faccio vedere eccolo allora sei stupido vabbè non ti faccio vedere dai dove ci rimani male vieni il brando guarda che se non hai messo la gratinica è colpa tua con poppea eh sono andato a vedere no con poppea scusa vabbè cicciolina può che fa fa la troia non ho capito io è che dobbiamo far nascere uno che non verrà mai condito dalla sua vera madre e penso che mi ha dato che la piccolina è una madre amorevole è molto amorevole si è molto amorevole è molto amorevole è troia però vabbè scusa non posso avere mamma mifo eh non può avere mamma mifo eh non può avere mamma mifo eh non è più il termine esatto che però ce la fa troia eh aspetta 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 mangio il creeper così abbiamo un'esperienza non so se me la prendo solo io ah si questa la metto qua questa la metto qua allora ci voleva guarda lo schifo che hai fatto cosa si io ho buttato tutto dentro la cazzelecane eh questo allora ci voleva c'è questo questo comunque se il premier qua dentro ti mette a posto questo si lo so lo so stru 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 ma perché non me lo fai dentro ma lo vediamo un po' guarda quel saffo la cosa dei ciocobozzi no non era così era così oh che cacchio ho guardato la grafting no quello è per red gisal eh poi dal red lo fai diventa gold facendo comunque una cosa con loro eh noi ti serve il love lì eh dal oh fermi un attimo eh noi ti serve il love lì ok bon mille se c'è la bon mille ce la famo perché li famo eh te lo dà tutt'altra volta ci hai fatto il grano ci sta un po' qua io mi riesco uh no no quello ho fatto io mi serve non dobbiamo andare sulla cosa sulla no anche noi i materiali ce l'abbiamo si abbiamo un po' di roba possiamo fare cose però adesso aspetta un attimo allora no 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 ma che si scrive gisal allora tu fai la plus come si scrive gisal eh come vabbè ah sta qua gisal 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 o quindi qua abbiamo queste mi serve un po' di legno guarda te l'abbiamo usato tutte le bestemmie che lancio di un po' ok ok allora quindi tac 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 guarda un buon del giallo quello è il buon del giallo eh che bravo adesso se vuole metà le proprie bla 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 comunque la bravo la ragione di braccia che non è l'uomo il primo che la testa c'è abbiamo una cobblestone poi sta la stanno normale vero stanno normale vero stanno 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 ah non lo so non che lo sei gratti allora c'è ragione te eh te l'ho detto bisogna fare con la cosa che cazzo è cobblestone allora ma certo che è cobblestone che ti sa che la stonna ce l'avevo giallo quindi ho detto non lo ne 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 vabbè io ti metterò fai la cunsa come un hater oh vabbè c'è una cazzata io sto con le cose più di figri io volevo cercare di fare un po' dei c2 veramente lo so che è una cosa no 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 oh cazzo aia no si no no devi bruciarli ho fatto una cacchiata non sto in reset mode ok adesso sto in reset mode ci sono andata mettiti in culo cicciolina ciccioline via qui e comunque noi li dobbiamo prende e trasportare tutti di là va bene ma ti buttati anche padre perché se io mi nutrano la lava oppure faccio così allora se fà ah così e va ha funzionato se non è facile fare sta cosa è una cazzata non ci vuole niente guarda io sto qualidade allora facciamo cattiva va bene va bene va bene va bene non è una cacchiata ma lo posso fare io mi sparo sto visto ma dove stanno i così i pezzi di ferro l'hai usato tutto l'altra volta per fare armature vabbè che può stare qua eccolo ah guarda il posto c'è stata spuntata eh questa è quella della smelting comunque se fai un altro libro ti copio questo qua così iniziamo con la l'incorso almeno non c'è per me per un servo 4 voto loro lanciami la pelle lanciami la pelle quella lanciamola lanciamola si eccola arriva guarda che figo sembra batman oddio guarda che cacchia è orribile si quello rifinito sembra inferiore di livello cioè di livello inferiore presto sul bucco rifiore sull'estate la mamma 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 2 l'ambiente 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 ok problema siamo senza vetro giusto giusto no o eccolo benissimo grande e piazza piazza a nutella gelato tua panna per me è tanto solo perché stai cantando piccola luce ok machine frame piston adesso mi serve quella cosa orribile che fa pubblico mamma c'è un rampo tempo pneumatico è facile eh ti ho detto eh glass ce dobbiamo il vetro si ce l'ho tutto io quanto serve uno spara ok spara tutta allora stacchia stacchia e qua poi mi spiegate perché ho fatto un pistone no 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 ho fatto bene a fare il pistone ok e a cosa comune ci servono i liquidi eeeh liquid ecco beh possiamo pure facolti però questo è facilissimo è facilissimo ah sto cazzo ma che c'è vuol scusa ah ci vuole ci vuole l'induzione svelte non è saputo le pate però non si può eh che cosa vabbè e allora no no vai vai continua ma mai vai poi fa muo i guarder che fai si è dato che sono cazzata devi andare a piappone cactus però io lo so d'ostante non si fa solo cacchus si no vabbè prova vedi un po' allora il wooden questo qua si fa anche vedi ti fa aspetta mi servono 1 2 3 4 5 team e 2 di vetro biswoods ah biswoods e casi si vado con cazzo dove stai ragazzi vado nel deserto no cacchus 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 e basta st cacchus cacchus se vuoi secondo fa e lui ti testa come se i sexy i sexy i sexy di tin guarda ok magari non era la tin nooo ok qua c'è qualche problema eh ma vabbè perché non lo so ti fa vedere che mi stai sconvolgendo il mondo oh si che mondo mondo di sto cazzo il mondo non ho niente da mangiare ma ho fatto i panini ehi panini vabbè pane ma il pane si può pure cuoce no eeeh boh oh quanto cazzo stavo notando guarda guarda un momento storico stai per fare una cosa cumulata che qualcuno lo filmi lo sai che era contro io era contro io no 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 come cacchio era e ce l'è là lo strozzo com'eri che differenza c'è tin eccolo e che hai visto te tin e ti fai bene oh porca ma dove cazzo sto andando tin 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 perché non funziona un cazzo mi sono otto le palle basta oh e rifai vedere quell'altro cosa provi questo vai che coglione che sono eh mi sono rotto il cazzo non funziona metti l'ipan non funziona uguale non è non ti cazzate non so ti cazzate che cazzo eh ti fa vedere come si crafta no oh guarda oh ti fa vedere come si crafta metti te ne manca uno e ti fa oh eeeh aveva fatto la cosa a colera qualcuno gli dia una medaglia doro anzi no di tin o un creeper frosso creeper frosso ti fa un po' la bici tra l'uomo l'uomo che è il vero rai cerca di far pari oh cazzo una comitiva vabbè io scappo e te che c'è uh cactus che tu sei un maiale madonna ma spana dei gruppi cosa c'è c'è il cappello via 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 quindi via tutti quelli che trovi finché non muoio quando muoio uno quanta cosa fa uno ne fa una oh cazzo poi va cotta altrimenti non so se fai senti io devo riuscire a usare la mia ic2 io ero tanto affezionato a ic2 perchè hai dovuto mettere questa cosa del better windmill e queste minchiate qua che io non la volevo non la volevo hai fatto una cazzata no poi quando siamo una parte più avanzata del gioco la favo anche perchè il compact windmill con l'iridium l'amico c'è risolto stazionato fa un po' un corrone ci fermano tanti diamanti poi andò per cercare diamanti va va bene eh che ci servono tanto mi ricordo che c'era un posto che scende fino al sì a livello tipo 10 12 ma questo come si fa fin qua oh oh vabbè ragazzi si è stronzo sei stronzo ho preso un po' di bon bon mamma mia sto per sbroccare poi il bending machine quella qua che si viene con la pavola ma come questa è una questo serve sai che mi serve questa cosa qua per fare una cosa che serve a fare una cosa che mi serve per fare il bending e non so manco che cacchio è sta cosa la convegno Roberto sarebbe la sarebbe pure il mente compresso uuuuh alber io sto per sbroccare Cristo uuuuh uuuuh le piramidi attento alle braccole che ti fanno esplode vediamo che riesco a razzia uomo ma che cazzo cosa ho fatto attento 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 che culo ti è andata troppo bene perchè di solito là ci stanno le bombe qualcuno ha già attivato non andare sul cubetto blu no 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 si può andare sul cubetto blu mi importa che non lo sfondo ok io direi che non c'è un piccone ma fate seri vabbè vabbè c'è ah ce ne hai due sei grande e vai cosa devi fare così eeeh no perché non esistono i piccoli di stone devi prendere un blocco di stone piazzarlo e romperlo eh si mi conviene no mi sa che non te lo troppo però se non te lo troppo no non me lo troppo serve il ebbè si faccia così va vabbè raga quanto mi sento handicappato quindi mi devo spercare che avevi questi credo dobbiamo prendere costruita sulla cronaca eh vai questo riciclio lo so fa qua è de notte no che sa c'è chi mi sa fa sarebbe le notte con un bistic engine si esattamente uuuuuh uuuuh eh chissà che cazzo è sto cosa attento madonna la roba sotto pia la dnt sotto ci deve stare Gregorio Smanual sotto ci deve stare la dnt via pure quella via tutto 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 aspetta aspetta questo qua che è buono normale ok allora vedi no asparaccio così ma è stronzo ok allora ah ma l'hai fatto allora ho il non me ne ho fatto un po' sì l'ho fatto che hai tu ah l'hai fatto questo scusa ma che ti tricace lo zaino non mi hai tutto metticito dentro ehm non basta guarda come non basta visto hai fatto capo spazio non è abbattato questo questo la safari net madonna che culo che cacchie ti fai con la safari net ci vuoi troppo le mob ma vabbè ti metti entro cosa li fa sponare che figata ok tu vuoi esabare niente nasce oma se gioco per ieri ti sei l'ho la carta me sai anche faccio vedere tutto 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 la vita come diceva così ma donna si dicevo per dire vedete potevo aspettare un altro po' c'era scusa mia ma dai amon dai e vabbè poi ne troveremo un po' senti sai che io vado scavare faccio piccone no vabbè aspetta dai e vediamo se posso mettere qualcosa dentro il backpack intanto c'ho 18 no stanno qua dentro si ho 18 cactus e come faccio l'italia fa quello che ti pare ma non muore oh no fermo vai vede se sotto c'è sta una tnt piglia la racchio piglia tutto oh 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 sai che si può fare con questa si così si fa la tnt per 5 la tnt per 5 fa una tnt per 20 la tnt per 20 ci fanno la mining flap bob posto ci sarebbe pure qualcos'altro che botta de culo comunque mamma mia sento di io però mica le piaghe eh già è da senza assordire e me la fa così ci arriverò dai si la faccio io ho io 22 blocchi tanto devo prender altro cactus perché il piscio è 6 queste cose che sono alviari oh porca che cacchio sono madonna c'è il cristo dietro bella raga c'è la regola roba enterprise rapporto enterprise alberto chiama ma perchè enterprise si la stiamo le trasportando ti sei un testo di calzo ti ho detto pure fermo ho pure strillato fermo io non c'ho non c'ho manco da mangiare te lo do io ti sei un testo di calzo tieni questo ti salverà la vita si ehi questo testo di lo fermo che stai sbagliando oh non lo devi non sa più ho capito basta mi sono rotto le palle oddio e chi siamo laggiù si sono sicuro sacchami che non posso manco più correre non sono sicuro anzi forse di qua che succede se rompi l'alveare eh no non ti serve questo per romper l'alveare serve un'altra cosa e io non c'ho proprio da mangiare ah forse entro il backpack no non così lo sprechi al pack lo sprechi allora dovrei mandare dell'alveare perché c'è il verde serve non c'ho da mangiare no ho trovato da mangiare ecco l'isola del slime quella è l'isola del slime sbagliata si è per aria quell'altra sarà picciata la montagna perché è rotta non lo voglio sapere eccola allora è questa deve sta appiccicata una montagna eh magari c'è un errore di rendering no tu dico io che sto nella parte giusta ok prima che arriva vinci no no ok sto nella parte sbagliata però ho trovato un villaggio non posso manco più correre un alveare oh ruba tutto nel villaggio oh c'è sta grano c'è un campetto bastanti poi direte le trasporti la franzia ma senti l'alveare rosso che mi dice l'alveare rosso eh ogni settimana mi sembra 8 tipi di api guarda quanti sono vado a vedere oh scusa ma io ci sono arrivato se avesse un po' di smeralda no che sfiga sta ancora crescere lo smeralda no non ho scherzato sta ancora cresce la roba loro che va uh invece è fatta alcuna si grazie grazie patate a me piace patate dai ci stanno nelle montagne caroten tartuffen tutto pietuto tartuffen è una cazzata la dico e porta pure da mangiare però le patate non si mangono secondo te gli dai una cotta e si fude più buone gliene la leccata le patate devono essere calde calde e supposi ma se mi mangiare il cibo di giocobbo cittadini no cosa vuoto vuoto casa pota oh ti riasce vero per caso si casa pota ma stile ce l'hanno abbandonato il visaggio mi sa ferro oh no invece ce n'è uno peccato che sto scelto uh che peccato qua c'è da roba buona si con il cacchio che te l'ho uno smerato per 12 frecce ma si attacchi qua quel cazzo ma io se vuoi un tirchio è merda ecco gli altri e questo che c'ha l'esporto casa è grande chi sono tutti questi qua madonna quanti sono prima pensavo sti abitato per un po' si però mi danno smerato è buono è buono oh vabbè 4 smerati per un iron helmet ma te sei scemo beh mi sai che ci siamo come ci scendere qua come ci arriva che non ci scende non ci scende mi sa che ho fiorito da mangiare beh le patate si mangiano così oh si spero non andiamo in casa guardate che vuoi vedere secondo me il muoio tu dici che non si fa morire di fame ma vediamo no secondo me rimani a mezzo cuore ma non casca manco da un cuoricino perché sei fottuto ma vediamo quello sbaglio è oil guarda un po' se è oil o merda si è oil tanto non ecco la pompa ci serve voglio se ci serve la pompa è pure facile guarda la pompa guarda che se vieni con me qua è pieno di roba non scherzando sono arrivato a casa guarda che roba le patate hanno un fottio crude le patate hanno un cuore le patate invece non hanno niente dei coci eh si se le coci danno un macello guarda non muoio e quindi non muoio no non muoio rimane con mezzo cuore sono stati io ho il po' e quindi quella è l'isola del slime si quella è quella appiccicata è arrivata non casca manco del cubito e che butti quella roba io caccia certe eh b allora aspetta madonna regala d'aglio che tanto qua prima che arriviamo alla fine due cubetti martesimo che su quale è arrivato e questo guarda che casa che c'ha ok quindi qui porca troia ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.